Leonardo Pavoletti è pure l'occasione buona c'è stata? Sì c'è stata, è stato bravo Mino a passarmela in mezzo all'aria ho cercato di tenerla bassa che di solito con rimbalzo può ingannare il portiere e il difensore invece stavolta sono stato un po' sfortunato che sulla riga me l'ha tolta Lanciano gioca, gli altri vanno a punti? È un momento così, è un momento un po' particolare di questo campionato però noi siamo sempre lì, quindi ora abbiamo un paio di partite importanti che vedremo di che pasta siamo fatti e poi tireremo le somme Inutile girarci attorno per cullare ancora sogni importanti, occorrono sei punti Sì servono sei punti ma soprattutto prestazioni che ti fanno continuare a giocare bene perché alla fine siamo in un momento che non ci sta girando tutto bene quindi intanto iniziamo a giocare bene come abbiamo sempre fatto poi arriveranno i risultati Cosa manca? Forse un po' di brillantezza, un po' di determinazione, incisività anche un pizzico di fortuna? Sicuramente ora dove pecchiamo è davanti che nelle ultime partite non abbiamo fatto tanti gol eppure le occasioni ci sono state quindi dobbiamo essere più cattivi sotto porta e segnare ogni palla che viene e dobbiamo essere in grado di far gol